Allora siamo con Rais, ciao degli Alma Negritta, cantante, abbiamo parlato ieri con Paolo delle Tassiere, col batterista e il 93 ti ha lanciato proprio questo palco al successo Sì, insomma è la prima volta che siamo saliti qui, abbiamo fatto tanti concerti prima poi la nostra prima grande occasione è stata in televisione, è stata qui quindi ci ritorniamo sempre con grande piacere Bellissimo, prima avete aperto alle ore 16 questa diretta anche qui sul Rai 3, com'è andata? Per noi molto bene Pubblico com'è stato? Ha risposto bene? Ma è difficile capire la risposta del pubblico da quel palco, il palco è molto grande, le persone si vedono piccole però c'era un bel movimento, la gente ballava Con la vostra musica reggae? Per noi va bene così Un messaggio per questo 2015? Ce sarebbero troppi? Uno solo? Ma speriamo pace in terra, sai come si dice? A tu, per tutti Sì, per tutti sicuramente Grazie a Raiz Grazie a voi Continua con la tua musica, grazie Ciao, ciao, grazie